Dopo la fase astronautica, ritorni, avrei già accennato, vieni chiamato come capo collaboratore sull'EFA a Torino, con quella che era la legna, adesso Leonardo. Come è stato, hai messo a punto l'EFA, come è stata questa esperienza dopo lo shuttle? Ma diciamo, innanzitutto, è un'esperienza per la quale ho usato tanto l'esperienza che mi ero costruito, che avevo sviluppato come astronauta. Perché può non sembrare vero, sembrare strano, ma quando tu voli su un belivolo nuovo, come pilota colaudatore, diciamo per l'azienda che lo costruisce, non è un lavoro da singolo, ma è un lavoro in gruppo, anche se poi fisicamente, su un belivolo tipo l'Eurofighter, ci sei da solo, ma a terra hai un team di persone, specialisti di ogni settore o di ogni sistema di bordo, che con le dovute differenze di scala ha veramente poco da invidiare al mission control alla NASA. Ed è un rapporto che è basato, diciamo, su un rapporto di fiducia con gli ingegneri. Loro ti dicono certe cose, tu gliene dici altre, e tu ti devi fidare di quello che ti dicono loro e loro si devono fidare di quello che dici tu. È un rapporto, come dicevo prima, in cui a volte tu devi tradurre delle sensazioni in un linguaggio tecnico, perché loro le possono apprezzare. E il pilota colaudatore, il brutto del bestiere, è che vieni giù e non racconti mai quello che funziona. Racconti sempre cose che non funzionano. E gli ingegneri non vogliono sentire cose che non funzionano, perché poi le devono mettere a posto. Però l'altra cosa che è interessante, che poi mi è servita anche per altre esperienze professionali, è che, per esempio, all'interno di un'azienda aeronautica, il pilota non è il capo degli ingegneri. Quindi quando tu scendi, non puoi ordinare agli ingegneri mettete a posto questa cosa, ma li devi convincere che è molto più difficile che non ordinare a qualcuno. Quindi è qui che nasce il rispetto. Loro devono sapere che quando tu dici qualcosa è perché ci credi veramente, non lo dici con secondi fini e viceversa. L'altra cosa è che la messa a punto di un velivolo digitale, come è stato, o è l'Eurofighter, è un lavoro che è molto diverso dalla messa a punto di un velivolo analogico. Nel senso che tu quando voli su un velivolo tipo il 104, con la MX, anche il tornado, da un certo punto di vista, è come se noi dovessimo operare una radio di quelle una volta con il selettore che quando sentiamo la stazione che dobbiamo sintonizzarla bene. Quando ci allontaniamo dalla frequenza giusta il segnale degrada gentilmente in un certo senso. E quindi tu quando ti avvicini ai limiti di un velivolo analogico in genere, non è sempre così, però in genere hai dei segnali. Quando tu ti avvicini al limite di un velivolo digitale, come succede al computer, in un momento funziona, poi hai un bit che va male e il computer si spegne. E così può succedere per un aeroplano digitale. E fino a una determinata velocità, funziona tutto benissimo, da perfetto, a un nodo in più, tu potresti anche perdere il controllo, può avere qualcosa di critico. E quindi quando tu sei in volo, molte volte tu trasmetti agli ingegneri le tue sensazioni fisiche che avvertono che c'è qualcosa che non funziona e che loro devono cercare di ritrovare nei loro dati e a volte invece sono loro che ti dicono no, non andare più avanti perché vedo un dato che non mi torna anche se per te a bordo andava tutto bene. E quindi questo rapporto è un rapporto che dà molte soddisfazioni se tu ti riesci ad interfacciare bene con queste persone. Perché poi la messa a punto di un velivolo è una sfida, una sfida con te stesso. del codico un aeroplano che sai già che ha qualcosa che non va ma non sai che cosa perché nessun prodotto nasce perfetto ed è una sfida diciamo anche intellettuale per chi c'è sopra. Quindi per me è stato qualcosa di molto, molto che ha dato molta soddisfazione. Grazie a tutti.